Ragazzuoli, eccoci qui tornati su Minecraft Javalicious Edition, oggi non è Java Edition, ci ricorda sempre queste frasi molto esotiche, siamo assieme i ragazzi di Twitch che stanno spammando, stiamo finendo e stiamo anche cucinando ovviamente, come sempre oggi dobbiamo finire finalmente la Stranded Forever. E sta andando avanti da due episodi, non da sempre, come dice il nome da Forever, però da due episodi, dobbiamo fare il terzo episodio e anche finale dove, adesso vi spiego, siamo su un pianeta deserto per chi si stesse guardando questo primo episodio. Ragazzi di Youtube, mi raccomando se volete venire live vi ricordo le faccio ogni giorno alle 8 e mezza di sera tranne il sabato e lasciate un bel like per far vedere il supporto e per far vedere che Minecraft è ancora vivo nel 2024 così vi posso portare altri bei contenuti. Forever Stranded, Stranded Forever, abbandonato per sempre in un pianeta deserto dove l'obiettivo è quello di scappare, riusciremo a scappare oggi chi lo sa. Mi avete proposto di farlo anche con le mod, magari più avanti lo riporterò, mi piacerebbe far qualcosina di moddato, ho visto un po' di cose anche tipo la mod del paradiso, robe interessanti, molto 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 interessanti. Se non erro, nell'episodio 2 abbiamo fatto questo bellissimo campo qui, abbiamo piantato anche tutte le nostre piante in modo da tirare sulle risorse che ci serviranno anche per battere il drago, perché come vi ho detto io vorrei battere il drago e vorrei andare a prendere l'elitra. Questo è un po' lo scopo per finire il gioco, sempre che si possa fare, perché non ne sono così sicuro. L'altra volta retturi sì, perché ho visto che c'erano le miniere, ma io non sono ancora al 100%, devo essere del tutto onesto, sicuro che si può effettivamente fare. Paura di scoprire queste cose. Ovviamente per scoprirlo che cosa ci serve? Ci servono delle enderpearl e ho scoperto, per caso in realtà, non per un motivo ben specifico, ma anzi facciamolo già prima che succeda qualcosa. Io mi metto della terra qui, adesso vi faccio vedere, se mi metto della terra in questo modo e creo tipo una piccola insenatura dove camperare, ci sono un sacco di enderman che escono dal portale del nether che abbiamo lasciato di là e che hanno in mano un blocco, quindi non disponono. Ce li possiamo portare in giro, non sai fare le ender dragon, no, i men. Consiglio mio, vai nel mondo in creativa, fatti il portale, prova a batterlo, dandoti un'armatura sempre peggiore. Quindi parti con un'armatura in nederite, ti dai delle bellissime armi, poi inizia a toglierti armi, inizia a toglierti l'armatura in nederite, la rendi in diamante, poi in ferro e diventerai fortissimo. Oppure lo impari a fare con i letti, che è uno dei metodi migliori in assoluto. Obiettivo, tirare qualche enderman verso il nostro aereo, così abbiamo già là le enderpearl, e poi dobbiamo andare nel nether a prendere le blades. Anche soltanto una blades sarebbe top. Non abbiamo trovato la fortezza l'ultima volta, ci riproveremo a questa. Dove è il mio portale? Ah, è là il portale. Vediamo se è vero che ci sono gli enderman. Sì, guardali là. Ci sono gli enderman con i mani blocchi. Solo che devo stare attento, perché a una certa non posso più correre. Mi dai una mano per fare un farm di carote. Ti consiglio di farla con i villager. In realtà è molto semplice il concetto. Prendi due villager, ne metti uno da una parte e uno dall'altra, separati da, tipo, un qualcosa che li divide. Li dai le carote, loro le prendono, le provano a dare all'altro villager, e ad una certa l'altro villager ha l'inventario pieno, quindi le carote cadono, ci metti sotto un hopper e le prendi. Spero tu abbia capito. Allora, ci sono ben tre enderman. Se li riesco a guardare tutti sarebbe top. Ok, non ce l'ho fatta. Se mi prende un'altra volta sono finito, quindi è meglio che mi metto a correre. E magari non prendo nemmeno troppi danni. Dai, ma che cos'è questa cosa? È scorretto! No, non puoi teletrasportarti davanti a me così. Non arriva il temporale, qua non piove e il cielo diventa così e sponono i mob, perché è considerata notte. Bene, guarda gli enderman là. No, non sono gli enderman. Dove sono gli enderman di prima? Ehi, dovrebbero essere qui. No, e non mi desponare. Eccolo là. Ce n'è ancora uno, per fortuna. Non mi interessa di riprendermi la mia ascia, voglio soltanto prendere gli enderman e portarli a casa. Quando esce il nuovo mob... Ah, è vero, vi devo raccontare una cosa che è successa, ragazzi, purtroppo. Ho provato ad aprire la randomizer con la nuova versione, quella con i nuovi mob. Non chiedetemi perché e la randomizer si è rotta, quindi non si può più finire la randomizer. Ho provato a sistemarla in mille modi, ho provato a ricambiare i file, è rottissima. Quindi la randomizer, purtroppo... A parte che ci mancava soltanto uno step, ma la randomizer finirà lì, dove l'abbiamo lasciata. Enderman, io confido in te, però mi devi droppare. Orca vacca! Oh, l'altro enderman! L'ho guardato? Sì, orca vacca! Yo! No, 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 questo si teletrasporta davanti a me, lo so già. Io lo anticipo, divento imprevedibile. Jumpa! Un cuore e mezzo! No, eh! Ehi, ti ho visto che non ti sei iscritto al canale e soprattutto, mannaggia te, bevi i tuoi due litri d'acqua al giorno, che ti fanno bene per la tua salute, mi raccomando. E non mi pagano per dirvelo, non ho l'etichetta. No, c'è pure il ragno, però. No, eh, quello mi apre la porta! Ok. Mi serve almeno una enderman. Forse ce l'avevo già anche, eh. Chi è che ha colpito quell'enderman lì? Ah, ha preso danno da solo salendo sopra. Vai, ma che cacchio! Sono qui, eh, non pensare di scappare. Oh, perla, 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 perla. Non me l'avevano data la perla. Quindi adesso ce l'ho, ufficialmente. Solo che ora è un altro enderman che mi sta cercando. È lui? Porca bocca, è lui! Bro! No! Ma non è riuscito a colpirmi, era dentro di me! Oh! Da! No, mi sei teletrasportato in casa! No way! No, 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 sì! Enderpearl, tap 1, completato. Qua abbiamo fatto anche la miniera che abbiamo finito. No, non abbiamo finito la miniera. Abbiamo fatto il pozzo. Quel pozzo è finito. Per fortuna. Un altro enderman là c'è. Iniziamolo ad attirare verso casa, che questi possono essere utili poi. Dov'è l'enderman? Yo, my man! Enderman non è my man. Oh, cavolo! No! Penso che questo sia l'incubo più grande di chiunque. No, non fa ridere, ragazzi, davvero. Un creeper che ti entra in casa non fa ridere. Come mi salvo adesso? Ah, ho un'idea. Way! Eravamo a 7 chilometri, bro. Io sono qua, tu sei là. Oh, no. Allora, l'importante è che io abbia la enderpearl. Poi del resto ci interessa davvero poco. Sistemiamo il sistemabile. Il nostro primo attacco allo shuttle. Poi il quarzo dove lo reperisco ora? Vabbè, in realtà potrei prenderlo il quarzo. Dobbiamo un attimo ripararlo alla belle meglio. Sarà ancora più realistico. Con il legno lo ripariamo. Qua togliamo la porta, non avrà più una porta e verrà riparato così il nostro shuttle. Abbiamo fatto un piccolo fix. No, pure il soffitto è saltato in aria, ma è proprio nel posto peggiore. I creeper. Mamma mia, i creeper. Qui in questo mondo, che già non c'ho niente. Non c'ho niente. Ecco, ho fatto una riparazione. Vediamo? Non ho neanche il pulsante. No, dai. Almeno il pulsante. Ti prego. Voglio vedere com'è la riparazione. Carina la riparazione, eh? Not too bad. Qui c'è l'arciere che mi va ovviamente sulle mie colture. Abbiamo fatto dei progressi assurdi. Adesso bisogna fare sicuramente uno step back. Ho bisogno di cibo, principalmente. Mettiamo un letto di qua. Magari posso dormire? Top. Andiamo al campo. Solo il grano. Ehi. Guarda che non riesce a vedermi. Troppi mob. Pure di giorno. Non c'ho un'armatura. Non c'ho niente. Se con lo shuttle decolla quel legno non resiste 30 secondi. Allora, Silvia, ti posso giurare che questo... No, eh. No. Questo shuttle decollerà. Costi che... Quel che costi, questo shuttle decollerà. Con uno zombie che mi insegue è tutto più bello. Quello poteva crescere ancora di più. Sto prendendo il pane per andare nel nether. Comunque, piccolo contesto. Grazie davvero di credere in me se... Quello si nascondeva nella piantacione. State esagerando tutti. State davvero esagerando. Sotto un certo punto di vista fanno anche i comodi, creeper. Grazie. No, ma mi ha pure distrutto le mie patate. Non mi è piaciuta questa mossa, sincero. Adesso possiamo farci un piccolo reset della vita. E ci facciamo il pane con... No, non c'è più la porta di qui. Devo ricordarmi che non c'è più. Ciao, ragno. Ti prego non mi fare del male, almeno tu. Pane. Pietra e gli stick li userò per prendermi qualcos'altro in pietra. E andiamo a cercare le cose nel nether. Andiamo nella nostra miniera a reperire materiali, risorse. Yo, quanto va giù? Non c'è un creeper qui sotto, vero? No. Troppo sotto, paura. Andiamo in su. Mi serve un 9 di pietra. Che playlist uso per le musiche chill? Me lo chiedete spesso. Si chiama Crepuscolo Blu. È la playlist che uso sempre in live la migliore. Ha quasi 8000 salvataggi, tra l'altro. No Cappello è una delle playlist più chill che puoi trovare in giro. E sarebbe stato bello avere anche un minimo di armatura. Ma vi dirò, probabilmente faremo il drago senza armatura. Nella speranza di non beccare nessun tipo di enderman e di sopravvivere con il water bucket clutch. Che non abbiamo il tempo di reperire anche armature decenti. Il problema sarà prendere l'elitra. A meno che saliamo direttamente sulla barca. E ci sta. Abbiamo il pane. Le frecce le lasciamo qua. Ho delle stringhe. No, dovrei prendere anche delle stringhe in notturna dai ragni. Andiamo sulla sinistra al volo. Vedo, se riesco a trovare del ferro interessante, andiamo verso il nether. Vediamo se riusciamo a trovare la fortezza. E poi facciamo il resto delle cose. Esistono i villaggi qui? Non penso. Però con i villaggi puoi fare gli scami, puoi sbloccare proprio un'altra intera dimensione di cose. Troppa acqua, troppa, troppa acqua. Per quanto sia spettacolare vedere dell'acqua in un deserto, non ci serve. Magari facciamo al massimo un bagnetto. Uh, là però va sott'acqua. Potrebbe esserci la caverna là. Andiamo a vedere. Oh, guarda qua. Ferro. Lo riesco a prendere, vero? Ti prego dimmi che non vanno via le bolle. Yes. Del ferro nascosto per caso? No, solo sabbia, granito e altra sabbia. Era una trappola. Era una super trappola. Invece che era un villaggio ci sono anche nel deserto. Non so che ci sono i villaggi nel deserto, ma questo è un mondo particolare. Se ho letto bene, hanno utilizzato la stessa generazione di un mondo, però hanno tolto delle cose. Tra cui strutture, tra cui biomi tipo, insomma. Oh, cavolo. No. Perché mi è venuta questa malsane idea? Uno e mezzo. No, 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 no. Quanto danno fa l'acqua? Non vi preoccupate. Può fare anche sette cuori di danno, ma non batterà mai il trucco più vecchio del mondo. Entrare e uscire dal gioco. Anzi, uscire e rientrare dal gioco. No. Quali capiranno in pochi cosa sta succedendo. Com'è possibile? Ce l'ho messo io? No, non ce l'ho messo io questo blocco. Vabbè, opere artistiche random. Ideona. Cerco dell'oro e lo scambio ai piglin per il ferro. Meno 100 meno 15, esatto. Salvatevi le coordinate, meno male che ci siete voi in live. Mi salvate la vita. Oh, ragazzi, YouTube, dovete venire in live a salvarmi la vita, mi raccomando. Qui ci facciamo un'incetta di blocchi e li utilizziamo per andare dall'altra parte, perché l'ultima volta abbiamo fatto un ponte gigantesco e non siamo giunti a nessun tipo di conclusione. Non abbiamo trovato fortezze, non abbiamo trovato niente di niente. Sì, con i piglins cambio anche le perle, però le perle non sono un problema, perché abbiamo questo bioma della nostra. Non conviene. Conviene piuttosto trovare i blades. Già, solo trovarli è una cosa. Poi, con calma, andiamo lì magari con un calderone. Un calderone, un'ascia, ce la facciamo. Perché non vai a prendere prima le litre e poi provi a far fuori il drago? Perché hai idea di quanti blocchi devo farmare con le poche risorse che ho per arrivare a prendere le litre prima del drago? Dovete sapere che se voi andate tanto in fuori dall'isola, ancora prima di battere il drago, potete prendere le litre prima di batterlo. Ma non ve lo consiglio. Ok, è bello, ma davvero non serve. Non è un nether normale, questo è sicuro. Non vedrei fortezze, però. Fortezione. Ah, mi è già andato il piccone. Andiamo in sotto. Un uomo fa anche questo, umano. Io voglio capire una cosa, perché mi sta venendo il dubbio che possano non esserci completamente edifici. Quindi, né bastioni, né niente. Se non ci sono edifici, non possiamo battere il drago. E di conseguenza, immagino, non ci sia nemmeno il portale. Solo che per testarlo, volevo prendere delle blazerod. L'ho dato per scontato vedendo le miniere. Ma neanche nelle miniere ho mai visto tipo un dungeon, uno spawner. Dovremmo aver già trovato qualcosa. Abbiamo percorso anche troppo. No, questo non doveva succedere. Mi prende quella finita. No, mi ha preso. Mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso. Lasciami stare, bro. Perché mi dovete toccare? Non ti ho rubato dell'oro. Non ti ho fatto niente, te lo giuro. Sopravvivi, sopravvivi. Sono vivo. Qualcosa è stato modificato in questo Nether, ragazzi. Potrei dover testare una cosa. Facciamo una cosa. Recreo il mondo, per com'era. Seed, ha pure il suo seed, ha le sue cose. Vediamo cosa succede. Teoria è solo deserto, in teoria. Andiamo a vedere. È effettivamente lo stesso dove c'è lo... No, ma no, no, non è lo stesso. Aspetta, cosa sto facendo? No, non è la stessa cosa. Me l'ha semplicemente copiato. Teoria, se adesso vado di qua. Copia. Quindi qui possiamo usare i nostri bellissimi cheat. Mi sembra davvero strano che non ci siano fortezze o cose varie. Poi è tutto così. Non ci sono fortezze, né bastioni. Non c'è niente. C'è solo lava, deserto, piante, bedrock. No, questa cosa non è normale. Questo non può esistere su Minecraft Vanilla, ve lo posso giurare. Yo. Qua ce n'è un altro ancora. Oh, aspetta, Autorist Destination in teoria vuol dire... Ah no, ok, sono semplicemente i biomi. Non c'è dentro anche la fortezza. Quanti blocchi siamo in fuori? 1500. Ok, dopo tipo 2500 blocchi a non trovare niente, forse è arrivato il momento di fare il comando slash locate. Tracture. Com'è che era? Facciamo Bastion. Bastion Remnant. Oh no. Ma vuol dire che sta cercando all'infinito ma non lo troverà, vero? Sì, infatti guarda che quando vado va a scatti. Lo sta cercando all'infinito. Torniamo nella copia. Ok, mi ha riportato indietro a dove l'avevo lasciata la copia. Facciamo una cosa, ci mettiamo in creativa, mettiamo l'ossidiana e torniamo nel mondo normale, perché ora mi viene un altro dubbio. Comunque non si potrebbe battere il gioco, ma mi sta venendo un dubbio. Se tipo io prendessi un occhio di end, eye of ender, e lo lancia... Ma? Scusa, se vado in survival e lo lancio? Non me lo lancia! No! No bro, questo significa che non si può fare niente. No! Proviamo a fare slash locate. Structure stronghold, se non erro. Could not find a structure of type Minecraft stronghold. Se io cercassi un altro tipo di struttura, tipo, boh, in glue? No. Village a sto punto. Desert village. Oh! Forse l'ha trovato? No, sta cercando all'infinito come prima. È forever stranded per davvero! Non si può scappare da questa serie. L'unica cosa che puoi fare è provare... Mamma mia, sta tirando delle laggate assurde. Ma non prendi neanche danno da caduta! Yo! Non posso prendere danno! Ok, dimmi di più. Ho appena scoperto una cosa che non sapevo. Guarda che bello. Quanto è soddisfacente. Ok, abbiamo constatato che non c'è. Ma se io mi mettessi in spectator, cosa c'è sotto terra? Ah, delle normalissime caverne in realtà. Beh, normalissime è un'altra cosa. Però, delle caverne, delle strutture, non penso ci siano a sto punto. Non le cercherò perché sennò mi si impalla di nuovo. Però adesso la domanda è spontanea. Mi è nata a voi, mi è nata anche a me. Se io mi mettessi tipo qua e prendessi questi. E prendessi comunque gli IO vendor. Cosa che purtroppo non si può fare. Già, se mi fa il portale è un miracolo. Ok. Sembra essere tutto lineare per ora. Il land è lineare. Probabilmente perché non ci si dovrebbe andare in realtà. Vai che bello. Il motivo per cui prendere l'elitra prima può essere una buona idea. Quanto ci vuole ad andare a prendere l'elitra prima? Adesso c'ho sta curiosità. Forse non ci sono nemmeno le isole esterne, eh. No, ci sono. Vi dico, per arrivare qui ci vogliono almeno un'ora. 45 minuti un'ora di blocchi. E ne servono tanti. Tantissimi. Però si poteva prendere l'elitra? Mi sa nemmeno l'elitra perché realisticamente non avranno messo dentro le città. Avranno tolto pure quelle. No, non si può neanche prendere l'elitra. Non ci credo. End City. No, non ci sono nemmeno le End City. Rip. Peccato, sarebbe stato davvero bello chiuderla in bellezza volando via con l'elitra, ma uno dei finali più tristi forse. Anche più deludenti. Perché lasciano un po' quell'amaro in bocca. Nada. Solo vuoto e isole volanti. E altro vuoto e altre isole volanti. Un puntino nero. Questo è tutto quello che ci rimane della randomizer. Peccato. Però è stata divertente. È iniziata come una delle mie preferite e è finita come la peggiore che io abbia mai fatto. Peccato. The Bad Ending. Sarà mai un good ending? Chi lo sa. Lacustri, io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito, se volete stare ancora in mia compagnia, io vi lascio qui due video. E noi ci vediamo al prossimo. E ricordati che ti osservo sempre.